Su Are you serious man? Ora, cominciamo Non prende, non metta a fuoco Non prende, ma non c'è campo Non prende Non c'è campo Aspetta, aspetta Ora prende Allora, eccoci qua Oggi non so cosa faremo ma Ah, è appena arrivato il corriere Curriere un pacco Allora, mi è arrivato questo pacco Da GT Lab Ovviamente l'ho pagato perché è quel cazzo che collaborano con me Abbiamo qua Andrea che l'avete già visto E un nuovo Membro del team ragazzi Su forte No, allora lui è Questo cazzo Ti piacere? Allora Unboxing della cuccia Avrei questo ma Sto strappando Per quello anche la roba sotto Ce l'avresti però Cule Adesso io mi metto una smalacca Stai cosa lo metto No, non stai Non c'è un cazzo Un pacco dentro Un altro Spoiler Wow Che coglione Farò vedere da più vicino Sarà tutto bianco e nero Sto video Allora Già qua possiamo intravedere Oh Wow Leo Chiaro Se non è Leo Zambo Neanche lo compravo Tutto rigato Sì che la staffa Sì che va bene Tutto rigato Sì il problema è Vabbè ovvio è da tirare Ma è tutto rigato La qualità del graffio Del porco Allora Iniziamo così Adesso bisogna cominciare a smontare il fianchetto Che si inizia da sto pezzo qua 50 anni dopo abbiamo smontato il primo fianchetto Ma se tu hai un trapano Hai l'insert Lo fai prima Sì 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 Dopo Oh oh Ho centrato il buco Temo tu dure Sì Sì Bello Bello Quando ce l'ho più pesata Ce l'ho più pesata Quando gratta What the hell Riprendila 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 Io ho pa**o di riprenderla Riprendila La passava lui Cazzare L'unico Ma pa**o Ma corri anche col gesto L'ho già fatto Telecamera No No Hai rotto il cazzo Pronti E invece no Fakissimo Io mi sto bagnando Ti stai? Mi stanno mangiando Ah ok Ho capito che mi stavi bagnando Uuuu Attenzione Ah è 8 È 0,8 Uuu Io mi sto sapevo dalla 0,9 Io neanche lo sapevo Che cazzo Che cazzo Che avevo detto la triage a tutti e ci detto Uuu Che dopo Di che anno sei? 0,9 Ho capito che ti piace Che lo fai? Dove sta venendo? Uuu Sta venendo 3,2,1 Uuu Ho scelgato il bug Guarda lì Gli è venuto duro No Basta Non vuole mettere tutto bianco e nero No No Non so dire Vecchio ma quanto è bello senza taglia Mi sono un po' di mardo Ma siamo in giro così Vecchio 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 Hai comesso? Sì 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 No Non aprirmi Fate finta di niente voi Così sto fuori Non farti credere Allora alla fine ce l'abbiamo fatta L'abbiamo montato Con non pochi problemi Con sto coglione Tanto sono arrivati questi due Vabbè Vedi su youtube? Sì Era il video del portatario Poi è andato tutto a fanculo Perché mi sono incazzato Vabbè questo qua c'ha Il mio tag di Instagram Andatemi tutti a seguire su Instagram Vai schienati C'è il video Schienati Vai schienati Non vi apro il cancello Jenny E come filmate? Andiamo a fare benzina Ok Sfollata micidiale Sfollata micidiale Sfollata micidiale Sfollata micidiale Grazie a tutti bella ma di faccia me la devi fare non di culo porco che vuoi che forte vecchio fammene di faccia però parco di Il rumore è dato l'opera Inverso Vai da fermo in prima Sei in mezzo al cazzo Il mio salvatore Il mio salvatore Con Liberty Come entra Quanto sole c'è Quanto sole c'è Casca la plastica si rompe anche quella Buon salve Salve Il mio salvatore Anche se non ti chiami salvatore Grazie Allora il boss ci ha portato Tecnicamente la plastica giusta Se vedete che l'ho scocciata Perché Mentre si andava Si apriva Io comunque c'ho ancora il gesso Quando l'ha provato un mio amico Mi continuava a dire che Continuava ad aprirsi E quindi Gli ho messo lo scocci Tu hai qualche confessione a dire C'è fatto tanti salti il pacco Ok forse era meglio che non Dice Uh attenzione Mi vuole uccidere Allora Axassino Axassino Ax Anche incredibile Attenzione al pacco opening Il più grande d'Italia Ma c'è Grandissimo La plastica C'è Ma A parte che Secondo me Non ci sta C'è Questa è sbagliata Perché non è abbastanza grande Oh Ciao Come la non mi Madonna Se è arrivata un'altra roba Dio Sentire il bestemme Allora Dalla prima occhiata È arrivata quella dall'altra parte No Sì Vecchio Ti è arrivata quella dall'altra parte Ti scherziamo Noi stiamo Scherziamo Io ho ordinato la destra Eh Quella lì è la sinistra Questa è la destra Questa qua è la sinistra Ah Questa qua è la plastica sinistra E io ho ordinato la destra Derby SX Niente Allora Ho fatto un po' di ricerche Ho guardato di non aver ordinato Io ho sbagliato Perché Potrebbe essere Dato che sono stupido Eh no Io ho ordinato giusto Come vedete da questa foto Ho ordinato Come vedete Derby DX Vuol dire destro Cioè il convogliatore destro Che è quello che effettivamente è rotto Mannaggia E niente Mi è arrivato il sinistro Quindi adesso sarà un casino Devo fare il reso Devo ricomprarlo E costa una fucilata Dio di quel dio E vabbè non mi interessa Chissà come c'è arrivata Non mi interessa E quindi niente Vaffa culo Io posso Tu no Quei 95 euro Le ho pagati io Non tu Eh Dio E niente Quindi questo rimarrà così Ancora però un po' Mannaggia Niente Alla fine Il portatarga Abbiamo rimesso Abbiamo cambiato soltanto La parte finale Perché In pratica Non riuscivamo Cioè questo qua È La parte finale Di prima E Che era tutta Ho tolto la parte sopra E ho lanciato L'attacco di prima E E attaccato il fondo Di adesso Di quello che ho appena comprato Perché non riuscivo Cioè non avevo le viti Per attaccare questo qua Digitilab Non me l'hanno fornita loro Quindi E niente Mi sono dovuto arrangiare così E Niente Noi ci vediamo Domenica prossima Al prossimo video E Iscrivetevi Lasciate like E Attivate la campanellina E Seguitemi su Instagram E Mi raccomando Più del 90% di voi Non è iscritto Quindi Che aspettate Dichilo anche te Io non lo farò mai Pezzo di me E E E